Mese del volontariato europeo giovanile a Pescara, tanti giovani dal vecchio continente per fare volontariato. Sì, è veramente stata una bellissima iniziativa di questa amministrazione, abbiamo promosso per oltre un mese tutte le attività connesse al Servizio Civile Nazionale e al Servizio di Volontariato Europeo. Oggi siamo ulteriormente lieti che alcuni progetti fatti da questa amministrazione sono arrivati alla fase di realizzativa, per cui oggi abbiamo ben sei volontari che ospitiamo, quattro al Comune di Pescara e altri due da parte di un'altra associazione accreditata che è anche quella che ha gestito il mese del volontariato all'Associazione Movimentazioni e abbiamo realizzato, abbiamo parlato con oltre 500 studenti delle scuole superiori del quarto e quinto anno. Abbiamo fatto formazione a 10 scuole superiori non solo di Pescara ma anche della provincia. Abbiamo incontrato oltre 50 associazioni tra accreditate e non accreditate per promuovere questo tipo di opportunità. Continueremo, sarà un lavoro che avrà come punto di accumulazione novembre come mese del volontariato che vogliamo lasciare, ma continueremo questa attività proprio grazie al patrimonio che oggi abbiamo di questi ragazzi che sono qui con noi andando nelle scuole, nell'università e presso il centro di aggregazione giovanile. Apriremo degli sportelli informativi e faremo dei nuovi incontri. Inoltre, altra cosa, vi rimandiamo ai prossimi giorni quando invece inaugureremo la prima casa del volontariato europeo, cioè la casa dove i ragazzi andranno ad alloggiare tra pochi giorni. Per il momento sono stati ospitati e ringraziamo molto la Caritas per averlo fatto. Adesso stanno terminando gli ultimi lavori nell'appartamento. Immaginiamo entro la prossima settimana di poterlo presentare ai ragazzi che dovranno viverci e anche alla stampa.